Weee! Non fare il tacco incacchiato! Da oggi puoi supportarmi nello shop con il mio codice CREATOR! Clicca in basso a destra sul tasto supporto a un creatore ed inserisci XIUDERONE! DAIE! Weee! Bella a tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video! Io sono XIUDER e ragazzi oramai manca davvero pochissimo al nuovo arrivo della collaborazione più grande che Fortnite abbia mai fatto nella sua storia. Sto ovviamente parlando del signor Batman non si fa altro che parlare di questo in tutte le community in tutti i forum dedicati a Fortnite tanto che addirittura dei 12 pack criptati scoperti nell'aggiornamento della patch 10.31 solamente 3 sono stati decriptati e in questi non è ancora presente nessuna skin ufficiale. Nel video di oggi ragazzi parleremo anche della nuova lobby sì perché verrà modificato tutta la mappa la lobby cambia pinnacoli mettono le challenge tanta tanta arriva una nuova rarità per le skin ma parleremo anche del rift attivo che annuncia proprio l'arrivo di Gotham City con un piccolo easter egg. Non so se ve ne siete accorti e ovviamente una bella sbadilata di leaks per tenervi sempre aggiornati sul dietro le quinte di Fortnite. Prima però volevo ringraziare tutti coloro che utilizzano il mio codice creator xyuderone grazie di cuore ragazzi per supportarmi nello shop mi raccomando iscrivetevi al canale adesso ci vogliono 5 secondi e soprattutto attivate la campanella per non perdere nessuna notifica sui miei video e sulle mie live ma prima la domandina ve la devo fare ragazzi anche ieri mi avete risposto in tantissimi grazie di cuore per i vostri commenti per le vostre opinioni e oggi vi chiedo ma tu hai mai giocato a un gioco di Batman a un videogioco eh ne sono usciti davvero tanti dagli anni 80 fino a ultimamente forse un paio di anni fa l'ultimo io ho giocato a quelli un po' più vecchi anni 90 qualcosa degli anni 80 non hanno assolutamente paragone ho giocato però mi ricordo anche un po' a Lego Batman quindi a me sono piaciuti però ci sono tutte le collane di Akram e tutte le robe varie che meritano assolutamente di essere provate ma quindi ciancio alle bande e bando alle ciance guardiamo subito un regalo incredibile che ci ha fatto Epic Games sbadan e qua non stiamo scherzando ragazzi davvero applausi allo staff di Epic perché regalano 6 giochi di Batman per un valore compressivo di 100 euro ragazzi non sono bruscolini ci hanno messo nel negozio quello che trovi nella pre lobby ehm prima di caricare Fortnite l'Akram l'Arkham Collection quindi la trilogia dei giochi di Batman più fighi e anche la trilogia del Lego Batman sono molto divertenti anche i Lego Batman dei bei passatempi non impegnativi che secondo me sono abbastanza divertenti anche di logica non ho mai giocato agli Arkham però mi sa che anche lì ci siamo davvero alla grande quindi grazie Epic per questi 100 euro di giochi regalati alla grande e proseguiamo ragazzi vedendo anche un'altra immagine incredibile sbada bam eccola qua la nuova lobby che troveremo probabilmente non si sa se addirittura oggi o domani potrebbe anche arrivare oggi eh ragazzi perché ieri c'è stato il torneo e quindi non potevano quello in singolo non potevano modificare la mappa però oggi magari capiterà qualche cosa voglio farvi vedere ragazzi insieme a questa lobby anche uno spezzone di video che ci tengo tantissimo lo mandiamo intanto che ci mostra appunto la lobby animata come vedete completamente a tema del Batman e oltre alla lobby sappiamo anche che arriverà ovviamente il bundle ovviamente anche un sacco di altre cose ma guardate addirittura nel negozio c'è una modifica del background ragazzi è una cosa che non è che si è mai vista addirittura il negozio con modifiche inerenti Batman il che ci lascia presupporre veramente che sarà un qualcosa di incredibile e soprattutto tutto comincerà proprio da qua ragazzi da Tilted Town la pinnacoli che ha sostituito la neo pinnacoli che ha sostituito la vecchia pinnacoli pendenti forse non lo sapete ragazzi intanto il Rift Beacon è attivo vediamo se abbiamo sì abbiamo direttamente un bellissimo spezzone video che vi mostra come il Rift classico insomma siamo abituati a vederlo oramai in questa season l'animazione del Rift si è attivato e come vi anticipavo c'è un easter egg meraviglioso che ho pubblicato anche sulla mia pagina Instagram la trovate Xyuder guardate bene cosa cavolo c'è conficcato dentro un quadrotto di paglia proprio in questo momento c'è una roba che non c'entra molto con Tilted Town ragazzi c'è un cavolo di Batarang che si è conficcato nel pomeriggio di ieri dentro un covone sopra questo carrettino che ci danno appunto questo easter egg di come sarà proprio il Batarang ufficialmente in game tra l'altro ragazzi sappiamo che la Tilted Town che conosciamo in questo momento verrà appunto sostituita da Gotham City ripeto chi non conoscesse cos'è Gotham City è la città dove Batman vive dove svolge dove si svolgono le avventure di Batman la riguardiamo ancora un secondo perché è veramente enorme una city che secondo me mancava in questa season 10 dove in realtà abbiamo tantissimi punti di interesse nuovi oppure ex che sono tornati ma una vera e propria city con le città se escludiamo Borgo Allegro che non c'è a terra mai nessuno secondo me potrebbero anche toglierlo tranquillamente beh beh allora tanta tanta roba ragazzi e addirittura come vi anticipavo le modifiche nella mappa non cambiano perché non finiscono perché troveremo dall'edificio più alto di Gotham City addirittura il logo di Batman proiettato in cielo non si sa bene se lo vedremo in cielo solamente durante la fase notturna del game o anche durante il giorno oltre al logo di Batman che anche in questa immagine meravigliosa svetta nel cielo ci sarà anche lo zampino di Joker come vedete questo è un edificio che è stato dilaniato completamente da un'esplosione e alcuni cominciano un attimo a fare le prime congetture che ci sia ovviamente di mezzo la mano del fatidico Joker l'antagonista di Batman vi sto già mostrando anche un'altra cosa incredibile che è in arrivo che non è altro che il Batman Grapnel Gun voglio farvi sentire ragazzi il suono direttamente del Grappler suono ufficiale molto molto figo ragazzi effetti sonori scovati nei file di gioco come vedete sarà un rampino ora non sappiamo molto probabilmente sarà un oggetto che si troverà nell'utaterra nei forzieri forse anche nei drop che appunto è in pieno stile del Batman e insieme arriva anche il Batarang ieri vi avevo fatto vedere grazie al sito di Fortnite Tracker un'animazione del Batarang proprio ma oggi abbiamo addirittura i file audio originali eccoli qua dovrebbe essere esplosivo il Batarang quindi staremo a vederlo quando è in gioco e prima di salutarvi ragazzi vi do l'ultima informazione che riguarda proprio il bundle di Batman che dovrebbe arrivare si è scritto Black Monday la notizia un po' triste ragazzi è che purtroppo costerà dei cash veri 19,99€ per noi che siamo ovviamente in Italia e che abbiamo l'euro dovrebbe essere il prezzo di questo set che avrà come rarità rarità di sì quindi una cosa mai vista prima una cosa appunto dedicata un po' mi dispiace speravo che fosse un bundle che si pagasse in V-Bucks però più o meno è praticamente la stessa cosa io vi ringrazio tantissimo ragazzi per avere guardato anche questo video news mi raccomando un bel pollicione in su iscrivetevi al canale noi siamo in live dalle 8 su Twitch e dalle 13 su YouTube ciao ciao